Carissimi genitori digitali, benvenuti in questa nuova puntata di Essere genitori nell'era digitale. Oggi parliamo di un argomento, mi vedo già da ridere perché croce delizia, croce per noi genitori e delizia per i nostri ragazzi, soprattutto quelli un po' più piccini, ossia TikTok, boom, dovrebbero sentirsi i tuoni dietro, stile proprio film horror, robe di questo tipo, almeno per noi adulti. TikTok, questa piattaforma che in questo momento, quindi febbraio 2020, sta avendo una crescita veramente pazzesca, una roba del tipo che dietro magari quasi, cioè prima quasi nessuno se lo calcolava, a parte qualcuno che, oddio, o meno specifico, prima era musicali e comunque aveva già un enorme seguito, per carità. Poi dopo si è fuso con TikTok, hanno aggiunto una forte parte social, appunto, qualcuno ha sorto il naso, un po' se n'è andato, però in compenso da lì in poi è andato avanti di brutto. Tant'è vero che ultimamente, non dico che stia facendo paura Instagram, però diciamo che i numeri iniziano a farsi sentire a livello proprio internazionale, intendo dire. Quindi TikTok, questa piattaforma, io ci sono entrato e me la racconto, o meglio vi racconto un pezzettino ovviamente, perché a parlarne bisognerebbe veramente fare interi canali YouTube, probabilmente, per queste piattaforme. Quindi, questa consideratela una prima parte e poi andremo avanti. Allora, nel momento in cui ho accennato, tipo un mesetto fa, sono entrando YouTube, molti di voi, appunto, hanno iniziato a chiedermi, com'è, com'è, ma com'è, com'è non è? Qualcuno ha detto, oh mio Dio, adesso non te ne esci neanche più, oppure, ah, mia figlia ci sta, non riesco a staccarla, come mai? E così via. Allora, questa è la mia recensione, mi fa ridere, perché veramente, c'è affare in modo di non essere di parte. Allora, vi spoilerò subito, come direbbero i nostri ragazzi, vi spoilerò subito una cosa, ossia, a me TikTok piace, però cercherò di essere il più obiettivo possibile. No, piace, attenzione, al di là dei contenuti che ci trovi dentro, che comunque non sono da sottovalutare, adesso lo vedremo un attimo, tra un attimo, ha una fortissima componente creativa, visual, intendo dire, audio anche più o meno, ma è molto visual, come possiamo immaginare. Anche per questo ai nostri ragazzi piace, perché possono essere creativi, possono essere artisti, e così via. TikTok sta insegnando a molti dei nostri figli, ad esempio, le basi del video editing, quindi scusate se è poco. E uno può dire, sì, d'accordo, ma il vero video editing lo fai in altri modi, verissimo, per carità, ma stiamo anche parlando di ragazzini. Ok? Quindi, questo come inizio. Allora, vediamo un po'. Allora, prima di tutto, com'è TikTok? Chiassoso. La prima volta che io sono entrato in questa piattaforma, ho creato il mio account, anzi, forse dito un po' prima di sistemare tutto quanto nell'account, boom, mi è venuto il mal di testa nel giro di 5 secondi. Quindi, perché chiassoso? Perché nel momento in cui voi aprite l'applicazione, noi siamo abituati magari al Facebook, all'Instagram, in alcuni casi, magari qualcuno si ricorda ancora Twitter, bei vecchi tempi andati, eh, in cui aprite e c'è il feed. Ossia, c'è l'elenco dei post, immagini, video, testi, a seconda di dove vi trovate e di chi seguite. Quindi voi sapete che aprite l'applicazione tranquillamente, col massimo della nonchalance, con tutta la tranquillità di questo mondo, e sapete che vi troverete di fronte a una serie di contenuti che voi potete tranquillamente vedere. Attenzione, potete scrollare, quindi scorrere, e scegliere sotto certi aspetti. Nel senso, sì, è vero, li sceglie l'algoritmo, d'accordo, ma tolto questo, comunque, all'interno della mia bacheca, io scorro, mi fermo in uno, poi magari torno su perché mi era sfuggito l'altro, poi scorro di due o tre, finché non c'è qualcosa che mi salta all'occhio, e così via. Tutto questo su TikTok, diciamo che di per sé c'è, però non è così evidente, anzi, in realtà non è quello il fulcro. Il fulcro di TikTok è che nel momento in cui voi aprite l'applicazione, una volta fatto l'account, eccetera, eccetera, ovviamente, nel momento in cui aprite l'applicazione, boom, c'è subito il primo video, il primo TikTok, ovviamente non il vostro, è di persone che seguite, oppure, se non seguite persone, oppure ne seguite poche, possono anche comparirvi TikTok suggeriti dalla piattaforma in base, appunto, algoritmi, eccetera, eccetera. Quindi voi non vedete una serie di feed, di contenuti, vedete, boom, direttamente il primo TikTok. A quel punto voi potete andare verso l'alto, ed ecco che vi compare il secondo, poi il terzo, il quarto, poi siete voi a decidere se fermarvi a guardarlo oppure no. Però attenzione, potete anche tornare indietro, eh, nei TikTok precedenti, però attenzione, quello che manca, e qui è il fulcro un po' del nostro discorso, manca la vista ad uccello, mi verrebbe da dire, la vista dall'alto. Quindi è una piattaforma tremendamente immersiva, ed è, e quindi piace anche ai ragazzi, perché? Perché non devono perdere tempo a fare scrolling, eccetera, eccetera. Nel momento in cui aprono c'è subito la novità. Nel momento in cui aprono c'è subito il contenuto. Molto spesso, perché comunque i ragazzi seguono persone, un contenuto è il contenuto di qualche TikToker che a loro piace, per cui lo seguono. Ok, quindi questo è il primissimo elemento. A questo poi va ad associarsi anche un altro discorso. Ossia TikTok, a differenza, ad esempio, di venire in mente Snapchat, perché anche Snapchat è così immersivo. Nel senso che se voi aprite l'applicazione di Snapchat, non c'è il feed, come ad esempio Facebook, Instagram, e così via. Ma vi trovate subito la fotocamera aperta. Boom, pronti lì. Nel momento in cui aprite l'app, boom, siete già pronti a creare il contenuto. Però attenzione, perché, quindi sempre immersivo, sicuramente, come esperienza. Però attenzione, perché la differenza tra uno Snapchat e un TikTok è la differenza proprio di filosofia. Perché se su Snapchat, appena Snapchat, pardon, poi i ragazzini mi fulminano se sentono Snapchat, perché si dicono tutti, si dice Snapchat. Snapchat, comunque, dicevo, per Snapchat la filosofia è, nel momento in cui tu apri l'applicazione, puoi subito produrre un contenuto. Quindi il fulcro, il focus, è sulla creazione di contenuto, sul fatto che anche tu sei un creator. Poi, che quel contenuto te lo salvi solo sul rullino fotografico, non lo fai vedere a nessuno, lo invii come messaggio privato a un altro, lo metti nella storia, appunto, perché il primo ad aver avuto le storie è stato Snapchat, che ti dura appunto 24 ore. Allora, quello è un altro discorso, però tu sei un creator, punto. TikTok, boom, dall'altra parte. Sì, TikTok è vero che punta molto sui creator, ci mancherebbe, perché altrimenti non vivrebbe, però attenzione, il fulcro qui, il focus non è tanto sull'essere creator, ma sull'essere consumatori di questi contenuti. Perché, fateci caso, nel momento in cui voi aprite l'applicazione, subito avete un contenuto da consumare, e poi scorrete su altri contenuti, e così via. Quindi è una cosa completamente opposta, potremmo dire, diametralmente opposta, rispetto allo Snapchat, a Snapchat. Attenzione, quindi TikTok spinge molto al consumo dei contenuti. Poi sì, c'è sicuramente anche il divertimento di realizzarli, e in effetti poi i ragazzini si cimentano, però attenzione perché parliamo di filosofie di utilizzo. Quindi, questo è un punto. Sì, io ogni tanto poi guardo il mio schema che ho nel mio iPad, dei punti, se no poi mi perdo. Allora, quindi stavo dicendo, l'altro punto, e questo è molto importante, che anche qui ricorda molto Snapchat, è che o sei dentro, o sei fuori. O ci sei, o non ci sei. Attenzione, non parlo di esserci dentro perché tu hai l'account, perché segui le persone, e così via. Ma devi proprio, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, devi proprio perderci tempo. Mi spiego, in realtà l'applicazione è molto intuitiva nella creazione del contenuto, nell'utilizzo del contenuto ancora di più, perché, ripeto, apro l'applicazione, ho il mio contenuto subito pronto lì da consumare, boom, 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 e via. E creare il contenuto mi impiega qualche passaggio in più, però è tutto molto comunque veloce. Perché dico che ci devi stare? Perché nella creazione del contenuto tu hai tante opzioni, voi avete tante opzioni, che portano poi, che costituiscono l'elemento di creatività della piattaforma. Ad esempio, la possibilità di aggiungerci testo, beh, che novità, gli stickers, gli emoji, ma non solo, perché è una funzionalità molto utilizzata di TikTok, che deriva proprio da musicali, e che ha fatto un po' anche... è ciò che ha reso famoso a suo tempo, che ha fatto esplodere la piattaforma, è la possibilità di selezionare una colonna sonora, un suono, può essere un dialogo, ad esempio, tratto da un film, può essere una musica, una canzone, e così via, un pezzettino, e realizzarci il video sopra. Allora ci sono ragazzi che... utenti, definiamoli così, più in generale, anche più i grandicelli, che utilizzano, ad esempio, seguono con il labiale ciò che viene detto, situandosi poi in situazioni un po' paradossali, un po' divertenti, e così via. Adesso spiegarvelo diventa un po' difficile, magari ci farò un altro episodio più, diciamo, più focalizzato su questi aspetti. Ok? Comunque, ecco, poi ci sono le lenti, gli effetti proprio visual, quindi è un po' come su Instagram, sulle storie di Instagram, e molto di più anche su Snapchat, per cui posso applicare degli effetti al mio viso mentre parlo, mentre faccio le cose, degli effetti al mio video, e così via. Tutto bello, usarli è abbastanza intuitivo, è molto veloce, perché? Perché se è una piattaforma la devi destinare ai ragazzi, soprattutto quelli più giovani, non puoi rendere le cose troppo macchinose, perché altrimenti te salutano, e buonanotte, e vanno dalla concorrenza. Però attenzione, perché dico che in realtà non è così immediato? perché gli effetti, le musiche, i suoni, sono talmente tanti che non ce ne sono tipo dieci di effetti, non ci sono dieci effetti, per cui uno che non li conosce entra in piattaforma, li prova, boom, 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 e trova quello giusto. Ce ne sono veramente tanti, così come tutte le altre possibilità creative. Io mi sono quasi perso la prima volta, perché dicevo, vabbè, aggiungiamoci un effetto, giusto per vedere com'è. Mi sono ritrovato una roba pazzesca di effetti video possibili. Poi dicevo, mazzate, a provarli tutti impiego una vita. Come faccio? Ok, questo cosa vuol dire? Vuol dire che punta molto sul passaparola. Per cui cosa succede? Io vedo il mio amico, la mia amica, che usano, che stanno creando un contenuto, e vedono che utilizzano un effetto. Ah, figo, come si chiama questo filtro, questo effetto? Così poi lo uso anch'io. Oppure anche il suono. Siccome sono tantissimi suoni, perché adesso non so quante siano, però penso a centinaia, forse migliaia di canzoni possibili, tra cui scegliere, o di effetti sonori, o pezzettini di dialoghi, e così via, che cosa succede? Io non posso vedermeli tutti. Posso fare una ricerca, ma è molto limitata. Quindi, più delle volte, in che cosa mi, so che cosa mi concentrerò? Sui trend. Perché? Perché io apro, appunto, la piattaforma, boom, primo contenuto, c'è un suono di sottofondo, uh, carino, qui ci posso far realizzare un video con questo suono. Prendo il suono e lo riciclo, tra virgolette, per farci un video. Oppure, vedo questo suono utilizzato, ripeto, da un mio amico. Quindi, attenzione, va molto, per utilizzarlo bene, appunto, nella sua completezza, va molto con il passaparola. Un po' come era Snapchat agli inizi, che aveva una, un'interfaccia veloce, sicuramente, ma non molto intuitiva. Ossia, era tutto fatto a gestures, quindi a gesti, con le dita, tap, e così via, che però dovevi conoscere. E per cui, dovevi in qualche modo, o guardati i tutorial, ad esempio su YouTube, oppure, dovevi chiedere all'amico, e così via. Stessa cosa per questi discorsi di TikTok. Ecco perché dico, o ci sei, o sei dentro, o spendi tempo all'interno della piattaforma, oppure, altrimenti, i video fighi, dinamici, minchia wow, trendy, fatti da te, te li sogni, non li farai mai. Ok, questo è un altro, è un altro punto. Ecco, un altro, un altro discorso che mi premeva, siccome, ve lo anticipo, poi magari, probabilmente ci farò una puntata, solo per questo, perché merita, è molto importante, però molti di voi, hanno iniziato a chiedermi, sì, ma è sicuro, non è sicuro. Allora, in due minuti, forse anche meno, ve l'accenno. Allora, rischio di cyberbullismo, alto, rischio di adescamento online, molto alto, perché, e beh, è tutto visual, quindi, vedere questi ragazzini, queste ragazzine, che fanno cose, che si mettono in posa, che assumono un atteggiamento, ma in direzione, non stiamo parlando di che cosa, perché, molto spesso, questi ragazzini e queste ragazzine, lo fanno per se stessi, per la propria identità, la propria autostima, certo, anche una sorta di riprova sociale, però, comunque, finalizzata alla crescita della propria identità, la formazione della propria identità, eccetera, eccetera, ma, noi sappiamo benissimo, che poi ci sono anche malintenzionati, che di questa formazione dell'identità, non ne frega assolutamente nulla. Quindi, dicevo, vedere questi ragazzini, queste ragazzine, che si atteggiano, che sgambettano, eccetera, eccetera, e si acconciano, magari anche in certi modi, no, non dico spinti, per carità, però, dal punto di vista di un malintenzionato, potrebbero risultare erotici, carichi di eros, a torto, ma potrebbero risultare carichi di eros, e così via, ecco che questa è una di quelle piattaforme, che costituisce, un vero e proprio terreno di caccia, per queste persone, ma attenzione, non perché TikTok sia la piattaforma sbagliata, e ci arriviamo subito, perché in effetti lo era anche Instagram, sotto certi aspetti lo era anche Facebook, anche se Facebook è frequentato da un target di età, di una fascia d'età molto più alta, sì, molto, vabbè, lo uso anch'io, non sono vecchio, abbiate pazienza, però per dire, di sicuro, un target che non ha 13 anni, quindi attenzione, però diciamo che se noi pensiamo solo, appunto studiamo solo TikTok, sì, purtroppo il rischio è molto alto, questo cosa vuol dire? Che dobbiamo proibire i nostri ragazzi, i nostri figli, le nostre figlie, di stare su TikTok, assolutamente no, si tratta a maggior ragione di aiutarle, aiutarle a gestire i loro account nel modo più sicuro possibile, adottando, insegnandogli, spiegandogli tutte le tecniche di privacy, consapevoli del fatto che, come dico sempre anche i genitori che incontro durante le mie serate di formazione, ad esempio, che è anche giusto che ad un certo punto i nostri ragazzi iniziano a muoversi da soli, esattamente come fanno per l'offline, ossia all'inizio noi li accompagniamo dagli amici quando sono piccoli, poi iniziamo ad insegnare ad attraversare la strada, a guardare i pericoli della strada, e allora ecco che ci possiamo fidare a farli andare da soli al giardino che sta a un isolato di distanza, non troppo in là, raccomandandogli, mi raccomando, torna per le... ok? E non muovetevi di lì, così sappiamo dove siete. Ecco, però, anche in questo passaggio, anche nell'offline, però, il nostro ragazzo, il nostro ragazzino, in questo caso, il nostro bambino, non è sicuro al 100%, eppure noi lo lasciamo andare pian pianino, perché questa cosa, continuiamo a non farla nell'online? Forse perché l'online spaventa prima di tutto noi, che i nostri figli, sotto certi aspetti ha ragione, attenzione, non sto dicendo nulla, però, con le dovute cautele, iniziamo anche ad aiutare i nostri figli a vivere sempre più autonomamente, man mano che crescono ovviamente, per l'amor del cielo, man mano che crescono, a vivere quindi sempre più autonomamente, questo loro nuovo mondo digitale, perché? Perché siamo sempre lì, quello è il mondo che loro si accingono a vivere, o meglio, che stanno già vivendo, quello è il loro futuro, che in realtà per loro è già il presente, noi lo vediamo come il loro futuro, ma per loro è già il presente. Bene, allora, prima di chiudere, mi raccomando, metti mi piace, iscriviti, commenta che cosa ne pensi, soprattutto che cosa vorresti che io trattassi nei miei video, nei miei podcast, nei miei articoli, perché aiuta tantissimo me a capire di che cosa voi avete bisogno, a rendervi un servizio appunto sempre migliore, è sempre più azzeccato alle vostre esigenze. Poi, il mio canale Telegram, quindi se volete, se avete piacere, di ricevere non solo gli aggiornamenti, per quando escono i miei contenuti, in giro per il web, perché io scrivo un po' dappertutto, anche in piattaforme, siti e blog che non sono miei appunto, verrete aggiornati su quello, ma non solo, perché pubblico anche altre cose che trovo, e così via, il canale Telegram, lo trovate di nuovo, in descrizione appunto, trovate il link e ci potete andare. Se invece volete, preferite contattarmi in privato, e quindi stabilire un contatto ancora più diretto, sempre in descrizione il mio contatto e-mail. Noi ci vediamo alla prossima, grazie mille, un saluto da Ivan Ferrero, ciao!